Si può trasmettere l'esperienza e la tecnica, ma la passione si sviluppa solo con la dedizione, l'amore, il rispetto e l'orgoglio del proprio lavoro. E questo non è che valga solo per la macchina a caffè, vale per tutto. Grazie a tutti. 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 la storia di questa bellissima company. La Marzucca's role within the barista community è di essere qui per supporto, essere qui per un brand che resta vicino a tutti quelli che fanno cofini, e per lette le baristas sapere che non sono solo una macchina manufattura, ma che ci sono molto interessanti di quello che hanno bisogno, di quello che hanno bisogno, e che vogliono creare le macchines che rendono felice. La Marzucca è una cosa che ha bisogno di fare il coffee. Piero, quando mi ha chiesto se voleva, in America, mi ha chiesto di fare il coffee, mi ha chiesto di fare il coffee, mi ha chiesto di fare il coffee, che è diverso. E' una cosa che mi ha chiesto, che per me è più che il coffee, è la conversazione. Elefficiente Dici drie dueure che definenere a fondo al marzucca per me. Qualità? C'è uno começato che Factory приз commercial puoi ? Ben Acquitato Ci sono dyedse Innovation, passion, value. These are the things for me. Passion. 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 Passion is there. You can see in everybody's eyes on the factory floor they're passionate about what we do here. The innovation is always coming. It's always coming. The second word would be legacy. Innovation. Three words that can define La Marzocco to me history, heavy duty. La Marzocco to me means passion, quality, culture, satisfaction, excellence. La Marzocco per me è gioia, futuro, innovation, love, design, adventure, un posto dove crescere. coffee. I would say it's amazing, welcoming and family. And people. People. And then the third word would be family. We are a closely connected group of people that work together and anywhere I go, if I'm here at the factory, if I'm at La Marzocco in the United Kingdom, everywhere I go I feel like I have brothers and sisters and family around that I'm connected to. The words would be my whole life. They would mean you wow he? Yeah, they would be to be